La coccinella, dolce creatura, porta fortuna, dalle mandibole, feroci, e si mangia gli insetti cattivi, gli afidi, guardate, e pulisce il mondo, guarda come li divora. Si combattono con gli insetti buoni, quelli cattivi, e non con i veleni sulle piante, sui frutti. Impecilli, uomo, l'uomo stupido. E qua che succede? Ammazzate con la formica? Perché la formica protegge il suo greggio di afidi. Ah, la formica che fa? Protegge il suo greggio di afidi. Sì, e perché? Perché questi afidi secennano una sostanza di cui loro sono ghiotte. e li protegge perché se li mangia... Questa è un momento, questa... A cepè! Un momento, l'uomo, qui è il nostro... ... Un momento, un momento, un momento, un momento... E qua che succede? Questo è l'accoppiamento per fare insetti buoni, perfetto.